Ronny Hood torna con un nuovo album, Mad Lead, a live tribute to Chuck Berry. Uscirà il prossimo 15 novembre, è stato registrato al Tivoli Theatre di Winburn ed è un omaggio affettuoso di Ronny a uno dei suoi eroi di sempre, appunto Chuck Berry. La cantante Imelda May e il pianista Ben Wadras sono ospiti speciali di questo disco che ha una copertina dipinta dallo stesso Ronny Hood. Oltre al disco, all'inizio del 2020 uscirà anche un documentario presentato in anteprima al London Film Festival che si intitola Somebody Up There's Like Me, diretto da Mike Figgis e che racconta e approfondisce la vita di Ronny Hood e quindi di conseguenza ci saranno molti contributi e interviste da parte dei Rolling Stones, di Rod Stewart e moltissimi altri. Il primo quindi di una serie di dischi che omaggiano quelli che sono da sempre stati i grandi idoli di Ronny Hood, ma su questo vi teremo aggiornati. Sono Jessica Testa, vi aspetto al prossimo appuntamento con le Rock News di GemTV.